L'Hockey Milano Rosso-Blu chiude una stagione ricca di soddisfazioni coronata dalla vittoria di Coppa Italia e campionato di Serie B, successi che hanno visto tra i protagonisti anche i tifosi milanesi e la curva del Milano che dal 2003 affianca la squadra come un autentico settimo uomo sul ghiaccio. Una stagione da incorniciare che la CDM ha voluto celebrare con un libro dove in otto capitoli si toccano argomenti come il mondo ultras, lo sport, l'amicizia, la solidarietà e tanto colore con le foto di tutte le 65 coreografie che hanno accompagnato i giocatori durante l'anno ocheistico. A presentare il libro è l'autore e fondatore della curva del Milano Ivan Luraschi. Quest'anno ci siamo superati, abbiamo avuto un grande riscontro di ritorni, di vecchi amici, la curva è cresciuta ancora una volta e siamo tornati a lasciare un segno. Quest'anno addirittura siamo dedicati al colore, è stata la nostra parola d'ordine, abbiamo deciso di colorare la curva tutto l'anno in ogni partita con una coreografia diversa a ogni incontro, a volte addirittura ne abbiamo fatto più di una, specie nel momento finale di Ploef, nei momenti caldi e alla fine abbiamo deciso anche di farne un'opera, di farne un libro che lascia un pochino il segno e il ricordo di quello che è successo. Nel libro vediamo tantissime coreografie bellissime, quanto lavoro c'è dietro? E dietro c'è un lavoro praticamente quotidiano perché per arrivare a quei livelli ovviamente abbiamo dovuto adoperarci praticamente ogni giorno nel corso della stagione che pur durando un po' meno di quella calcistica comunque impegna più di sei mesi i tifosi, ma il libro vuole essere anche un pochino una risposta a quella che è la discriminazione che subiamo come ambiente ultras in generale, quindi vuole essere un qualcosa di più che soltanto un ricordo delle testimonianze coreografiche, vuole essere anche un messaggio di risposta a chi appunto accusa sempre gli ultras di essere il male assoluto, il male degli sport e noi in questo libro raccontiamo anche tutti gli aspetti sociali, gli aspetti aggreganti che ci sono dietro la curva dall'origine della nostra curva ma nella quale un po' si identificano tutte le tifoserie organizzate d'Italia.